Ciao, sono Irene, producer della redazione di Milano News, faccio chiamate, scrivo articoli e urlo un po' al telefono. Ciao, sono Angelo, regista e videomaker e mi occupo di... Scusa, ormai ho solo cuffie e neanche più orecchie. Stai facendo mezzo busto o un primo piano? Io sono Cristina e mi occupo dei social. Voi non mi vedrete mai, ma io vedrò tutto quello che fate. I vostri views, i vostri like, tutto passa per me. Ciao, io sono Gaia e sono producer e conduttrice. Però dovete lasciarmi fare le domande. Oh raga, comunque auguria. Di che cosa? Oggi ho ragionato degli studiisti. Eh sì, e finalmente mettiamo in pratica ciò che studiamo. Sì, anche se siamo sottopagati. Sì, o non pagati affatto. Ma ehi, è tutta esperienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.